Bruno Minicozzi e Luca Cioffi, intanto avete raccolto abbastanza materiale, i cittadini avellinesi sono stati sensibili al vostro messaggio di solidarietà per aiutare le popolazioni terremotate del centro Italia? Sì sicuramente, ma già eravamo certi di questa cosa grazie purtroppo a quello che c'è stato nella nostra provincia tempo fa, quindi di conseguenza sì, tutta la popolazione erpina sta rispondendo benissimo a questo messaggio che abbiamo inviato appena abbiamo saputo del dramma che c'è stato nel centro Italia. Che tipo di contributo stanno offrendo gli avellinesi? Ma in realtà qualsiasi tipo di contributo, a partire dagli alimenti, a finire all'intimo, al vestiario, dai bimbi, quindi dalle cose appunto dall'abbigliamento dei più piccoli fino appunto a ciò che può servire alle persone più anziane. Forum Giovane Enterprise, Cioffi, intanto dove andranno questi viveri, questo materiale? Partiranno sabato assieme ai vigili del fuoco, noi siamo qui oggi e domani dalle 10 e mezza mattina alle 13 e dalle 15 alle 19, attualmente più che alimentari, ciò di cui c'è bisogno è abbigliamento, coperte, intimo materiale sanitario, stiamo raccogliendo il più possibile e partirà appunto sabato mattina assieme ai vigili che daranno il cambio. Avete lanciato un bel messaggio di azione, subito siete scesi in campo per aiutare le popolazioni che soffrono nel centro Italia. Sì, siamo contentissimi della risposta di solidarietà che c'è stata, già ieri quando abbiamo lanciato l'evento la risposta è stata enorme, oggi gente di tutta l'età è venuta a portare tantissimi beni di prima necessità e siamo soddisfatti della risposta che c'è stata e siamo contenti di poter essere utili in una situazione del genere.